Buongiorno a tutti ragazzi e amici del canale di youtube e a tutti gli affassionati di campane come me oggi ci troviamo alla chiesa di San Nicolò di Cecina di Lanciano abbiamo un concerto di quattro campane, tre campane maggiori più un suonello che adesso ascolteremo il battiore sulla campana maggiore alle ore 12 e poi lo scampanio che ha fatto la ditta Capanni Castelnuovo Nemonti che è la ditta che gli fa manutenzione alle ore 12 godetevi questo scampanio per l'angelus del mezzogiorno e ci sente dopo a dopo prima che il soli lo fai nel... no 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 ecco 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 Grazie a tutti. 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 Godetevi questa sonata e ci sente al prossimo video. Che dire, dalle campane di Cesina, a presto da Lorenzo Campanaro 06. Ciao a tutti.